Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Poster Eloleu 79 570 AFM Quadri. Cadillacate su un set bollevard e spittura 80 x 110 cm. Questo dipinto ad olio non è una stampa grafica. Tutte le riproduzioni sono pitture a olio dipinte a mano. I dipinti ad olio sono alte riproduzioni di arte fatte a mano, dipinte da artisti con anni di quadri con protezione della superficie, vernice opaca. Usiamo solo colori ad olio originali e tele di cotone di alta qualità. Dimensione 80 x 110 cm. Quadri in telaiati pronti da appendere. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.